Io penso che stasera abbiamo fatto una buona partita, a livello tecnico e tattico siamo stati secondo me bravi nell'eseguire quello che volevamo fare, abbiamo orsato un pochino la pressione difensiva, abbiamo eseguito meglio in attacco senza farci prendere troppo dal panico, sotto pressione, siamo riusciti ad andare dove volevamo, purtroppo paghiamo le tre o quattro folate di transizione offensiva con canestro da tre punti che ci hanno un po' disturbato, hanno fatto un break positivo, quando ha fatto quei due o tre contropiedi con l'apertura a tiratore che arrivava e ha fatto canestro da tre, secondo me siamo stati bravi due o tre volte, un pochino, non dico sfortunati però, molto brava Reggio Emilia a far canestro a ventiquattresimo secondo dopo un'azione di grande difesa corale e individuale da parte nostra e questi episodi hanno un po' così, hanno dato la partita a Reggio Emilia, credo che abbiamo fatto, lo ripeto, una buona gara, in un campo caldo, una squadra di là molto forte, chiaro che torniamo a casa con due sconfitte, però ogni partita dopo si riparte e cercheremo di trovare le energie per affrontare gara tra i milioni dei moti.